buongiorno dici business e dici seatateca questa è la nuova seatateca allestimento business questa è una macchina per lunghi viaggi famiglie e nonne sensori di parcheggio anteriori e posteriori fari full led perciò sia la nabagliante che l'abbagliante totalmente led cerchi in lega da 17 pollici bella anche in questa tonalità bianca a noi piace molto questa vettura la troviamo una vettura molto intelligente rapportata alla qualità prezzo perché un prezzo molto inferiore rispetto a tante sue concorrenti stesso segmento e stessi accessori portellone elettrico voi guardate che bagagliaio è enorme molto profondo sedi riposte sdoppiabili poi per chiudere il bagagliaio basta schiacciare questo tasto e lui si chiude in automatico oppure con la chiave semplicemente potete aprirlo l'interno ottimi tessuti con cuciture a vista molto bello tre persone anche le stature elevata stanno comode è uno spazio per le gambe enorme comunque non fidatevi della nostra parola venite sempre a visionare provare le vetture così capirete di cosa stiamo parlando perché questa è una vettura che vi lascerà sbalorditi dalle promozioni che ci sono alla sua qualità e piacere di guida vetri elettrici anteriore e posteriori specchietti che si chiudono anche elettricamente adesso ovviamente il sedile di guida è ancora in celofanato perché la vettura è nuova ancora da immatricolare fari automatici un bel volantino strumentazione digitale virtual cockpit cambio automatico doppia frizione freno a mano stazionamento elettrico climatizzatore automatico bizona sinistra e destra separati questo tasto qua vuol dire tutto e di più per il parcheggio perché è il parcheggio assistito automatico tasto del sensore parcheggio anteriori e per aprire il bagagliaio anche dall'interno e poi c'è questo gioiello che è il sistema infotainment veramente un ottimo prodotto e l'interno beh sia tateca si sta in alto molto comodi si vede in lontananza ti comandi al volante ben disposti questo qui il virtual cockpit che come potete notare stiamo cambiando noi con questo tasto basta schiacciare il tasto view si cambiano tutte le informazioni che vogliamo lo configuriamo proprio come uno smartphone è spettacolare ormai con l'elettronica hanno fatto delle cose incredibili il motore di questa seata teca è un bellissimo 1500 a 150 cavalli cambio doppia frizione DSG allestimento business e lei è qua pronta per essere provata ammirata questo qui il modello già 2021 è l'ultimissimo restyling è incredibile è una macchina ottima i clienti che ce l'hanno sono molto contenti abbiamo sempre un ottimo feedback e abbiamo voluto questi accessori extra proprio perché è una vettura di un certo livello comunque sia il prezzo è fortemente scontato qui da noi con le promozioni di seat a cui autosmile aderisce e anche l'importo è totalmente finanziabile con lo 0 per cento di anticipo comunque per qualsiasi informazione e per venire a visionare provarla contattateci sempre